La tregua di queste ore offre la possibilità di tracciare un bilancio dell'enorme sforzo da parte della Protezione Civile Alto Tesina e delle Forze dell'Ordine in occasione dell'ondata di maltempo che ha flagellato la provincia di Bolzano. Circa 3.000 gli interventi con oltre 4.000 uomini impegnati. 40 strade sono ancora chiuse al lavoro, 500 uomini del servizio strade, quasi 5.000 le tonnellate di sale sparso. Per il problema dell'energia elettrica sono 1.166 le utenze non alimentate, oltre 1.356 quelle supportate dai generatori, 300 le persone impegnate nel ripristino. Possiamo constatare con grande soddisfazione che tutti gli interventi che sono stati fatti negli ultimi decenni, e dico da decenni che qui c'è un particolare impegno in questa provincia per fare queste cose, sono stati molto utili. Cioè le opere di prevenzione, le dighe, gli avalli, tutte queste cose qua, anche paravalanghe e altre cose, erano utilissime, hanno dato il loro servizio, hanno funzionato e perciò gli eventi diciamo si sono limitati a pochi. Come noto l'Alto Adige sarà per la prima volta teatro dei giochi olimpici con tutte le gare di biathlon che si disputeranno ad Anterselva. La Giunta ha messo a disposizione i fondi avanzati dallo stanziamento effettuato per il percorso di candidatura, circa 40.000 euro utilizzati per consentire alla macchina olimpica di proseguire nella propria attività.